Dopo aver preso atto della decisione del Tribunale del Riesame, pur ribadendo la mia complete stranetà rispetto ai fatti che mi vengono contestati, ritengo doveroso, per correttezza e rispetto delle istituzioni e nell'interesse della città e dei cittadini tutti, fare un passo indietro e lasciare ogni impegno politico, per cui presento le mie revocabili dimissioni dalla carica di sindaco. Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza umana di questi giorni. Con queste parole il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook le dimissioni da primo cittadino. Venerdì scorso è giunta la decisione di custodia catelare in carcere da parte del Tribunale del Riesame di Salerno, decisione non eseguita in quanto dovrà in merito pronunciarsi la Corte di Cassazione. Aliberti è accusato di corruzione elettorale con l'aggravante mafiosa in occasione delle elezioni amministrative nel 2013 e di voto di scambio politico mafioso per le regionali del 2015, quando avrebbe chiesto ed ottenuto voti per la moglie consigliere regionale del PDL Monica Paolino. Il sindaco, secondo l'accusa, si sarebbe appoggiato al cram di turno, che in quel momento aveva il controllo del territorio anche per le comunali del 2008 e le provinciali del 2011. Sempre su Facebook, Pasquale Aliberti aveva definito terribile la decisione dei giudici, scegliendo di chiudersi nel silenzio e negli affetti familiari. Ora dovranno passare 20 giorni previsti dalla legge per confermare le dimissioni.